Partirei da una considerazione, cioè che quando si usano le parole bisogna anche saperle usare. Democrazia è una parola che viene dalla lingua greca antica, vuol dire potere del popolo. E potere del popolo può essere declinato in tanti modi. L'idea che vi è in alcuni osservatori, in alcuni leader dei paesi occidentali, che democrazia sia soltanto quella rappresentativa dell'Occidente, è semplicemente una sciocchezza. Perché democrazia, potere del popolo, può essere affermato e declinato in tanti modi diversi. L'idea occidentale, non di tutti per fortuna, ma di molti, l'idea occidentale per cui democrazia coincide con l'Occidente, è profondamente sbagliata. E l'idea di organizzare un vertice di paesi presunti tutti democratici ed escluderne altri, è una idea che non ha niente a che fare con la democrazia, appunto, quella vera. Perché è un modo di fare politica, di fare politica internazionale. Cioè scegliere e conquistare i tuoi alleati contro gli altri. Questo summit che è stato fatto in Corea del Sud nei giorni scorsi è stato un fallimento. È stato un fallimento perché a livello internazionale nessuno ne ha parlato, ma è giusto così perché era un'idea degli Stati Uniti d'America di imporre un modello. D'altro canto, provare a esportare la democrazia così come si è costruita in Occidente, in altri paesi, si è rivelata, prova dei fatti, un colossale fallimento. Perché trapiantare un sistema con la forza, in sistemi profondamente diversi, in civiltà spesso antichissime, più antiche dell'Occidente, è chiaramente un boomerang. Tanto è vero che nei paesi dove con la guerra si è provato ad esportare la presunta democrazia, in quei paesi la democrazia non ha per niente attecchito.